questa sera è partito da mestre il mio nuovo tour pensare vincere vincere e settimana prossima sarò a milano a napoli a bologna a torino e poi in altre città insomma se volete venire siete benvenuti però sinceramente non so se sarete all'altezza del gruppo di questa sera che è qua e ci tiene a salutarvi se sarete che il gruppo di questo e adesso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti